Saluto a te Corrado 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 di status per cui bisogna fargli un grande applauso è vero, non ha vinto però è un uomo di esperienza è un uomo non di immagine non è un brand di se stesso non si aggiusta la sciarpetta quando è in... però è molto british ma non è british è molto denoantri ecco la conferenza stampa e anche le vostre telefonate allora Beba, tirami su un po' il morale leggi un po' i pensieri dei nostri telespettatori allora, complimenti vivissimi alla Curva Nord come sempre spettacolare Forza Inter, Michele Dacrima attenzione godiamo il giusto e poi testa bassa e lavorare la strada è impervia e lunga Andrea strafelice da Parma Raniere tanto tranquillo fuori dallo spogliatoio quanto sergente di ferro nello spogliatoio Beppe da Riva Nazzano sapere dov'è? esatto l'intelligenza c'è un messaggio per Giulio Peroni tu non devi scusarti ma se mai è Boucher mi scrive Vittoria attenzione brava Vittoria sei una grande non devi scusare perché io ho solamente detto delle cose ho fatto delle critiche che mi auguro siano state recettite da interista comunque sempre per l'amore della nostra intera esatto diciamolo l'importante è sempre detto in una certa maniera con educazione senza dover poi trascendere in quel momento era quasi impossibile e indifendibile determinate situazioni come giustamente diceva Peroni professore Giulio di conseguenza io mi sono allora il discorso massimo questo è una a proposito di giovani una bella considerazione del nostro presidente e più che del nostro presidente è una dichiarazione fatta di Alvarez a un giornale argentino giusto Beva un giornale argentino che si chiama Ole ha rilasciato questa intervista prima del derby l'Inter ha iniziato male quest'anno sì ne parlavo con Mauro Zarate nel 2010 l'Inter ha vinto tutto e da quando siamo arrivati noi due ha iniziato a perdere ci sentivamo zavorre ma gli argentini ci hanno dato una mano incredibile prima di venire pensavo sono tutti campioni figurati se hanno la pazienza di star dietro un novellino come me invece mi sbagliavo Zanetti, Cambiasso e Samuel mi sono stati vicinissimi incoraggiandomi sempre come è stata l'accoglienza della gente a questa domanda Enrico ha risposto molto bella sono arrivata all'aeroporto e c'erano un sacco di giornalisti appena sceso dall'aereo l'ha detto a stampa mi ha detto che mi avrebbero fatto le domande in italiano io avrei dovuto rispondere in spagnolo ricordo di aver messo una sciarpa dell'Inter ma c'erano 40 gradi non capivo nulla è stata una giornata indimenticabile ma difficile per me andiamo avanti con le altre due domande andare in Italia per giocare nell'Inter sembra facile ma la realtà è che in un primo momento ho sentito molta nostalgia molta angoscia per aver lasciato la mia casa quando sono andata a firmare in sede del Vellez sulla strada di casa con mia mamma entrambi piangevano tristezza e ansia prima del viaggio ho detto che voleva andare in Europa ma quando devi andare ti rendi conto che è difficile l'ultimo ora invece è bello c'è tutto quello che ho che un calciatore possa desiderare ho giocato contro Pirlo del Piero ho in squadra Zanetti Samuel Cambiasso ora li vedo tutti i giorni e sembra normale ma sono dei titani anche se loro ti fanno sentire uno al loro livello si sente come uno di più durante i ritiri stiamo insieme ascoltiamo musica guardiamo film argentini eccetera eccetera è vero ragazzi e questo secondo me fa capire comunque un po' come diceva Torre che ci sono giovani e giovani ci sono giovani grazie Laura Valci ci vediamo lunedì prossimo grazie a me assolutamente si speriamo a questo punto no no lunedì ci siamo grazie Giulio grazie Corrado grazie a tutti grazie professor Massimo Torre grazie a tutti voi grazie Buscemi noi siamo giovedì in coppia mercoledì mercoledì in coppia e grazie a Beba grazie buonanotte lunga vita InterTV grazie e ovviamente alla grande grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti